Why me? Partiamo insomma da questo debutto, abbiamo visto ieri a Milano l'anteprima del documentario per AIRC Why me? by Amarena Pitcher. Direi un lavoro che segna veramente il confine tra quello che è l'infotainment possiamo chiamarlo così di qualità ma che sa anche ingaggiare. 45 minuti in cui si impara, in cui ci si diverte anche in qualche maniera e soprattutto in cui si entra in contatto con la fondazione, si capisce chi è AIRC e l'importanza del suo operato. Sì, praticamente è quello che una volta si chiamava branded content nel senso che sono appunto come se fosse quasi un maxi spot anche denso di informazioni e di contenuti e di informazioni importanti, chiaramente è brandizzato ma che poi è anche un ponte per tutto un filone che è molto più vicino invece alla siderialità, al cinema in qualche modo, tant'è che infatti è su Prime Video e questo chiaramente è un ponte interessante anche per i brand che vogliono un domani affacciarsi su questo canale in qualche modo. Tra l'altro un lavoro insomma che segna un po' quello che è Amarena Pitcher, no? Qual è oggi il vostro posizionamento e il vostro anche segnale che volete dare al mercato, partendo da un lavoro così? Ma guarda, noi in realtà ci siamo un po' abbiamo preso la giusta distanza, come si dice, dal mercato nel senso che stiamo lavorando dove troviamo Good Vibes. Il nostro posizionamento che all'inizio era quello di far sentire Good Vibes sul set, perché poi è sempre stato quello il motivo che ci spinge a lavorare insieme, a star bene insieme con i brand e con le agenzie con cui lavoriamo. È diventato proprio uno stile di posizionamento, cioè noi quando vediamo che ci sono delle situazioni in cui le vibes non sono proprio carine, cerchiamo allora di intensificare le relazioni con invece quei partner con cui invece si sono creati delle situazioni molto... E questo ci ha permesso, noi siamo già, quest'anno abbiamo già coperto tutti i costi, stiamo andando benissimo proprio per questo motivo. E questo ci ha permesso anche di essere scelti più volte da quando è partita la pandemia siamo stati scelti dal Ministero, abbiamo vinto la gara per il Ministero per la Comunicazione durante la pandemia adesso ci ha scelto anche Ayrk, quindi anche delle figure che non sono l'ultimo spot che è uscito con Maurigno la Ionique eccetera eccetera, ma sono delle figure che hanno a che vedere con dei temi importanti ci scelgono perché riusciamo a parlarci con grande trasparenza, con grande amicizia in un certo senso. Quindi un po' è questo il posizionamento di Amarena, siamo quelli simpatici. Che tradotto poi in termini pragmatici, queste good vibes sono praticamente la capacità di fare squadra di creare appunto delle partnership, di lavorare insomma pro progetto e non magari rimando ognuno nel suo pezzetto. Sì che poi sembra una cosa da presentazione, ma in realtà noi sono dieci anni che lo raccontiamo che essendo già io e Ale squadra, ovviamente per noi è semplicissimo includere nella squadra il direttore creativo, il direttore marketing, il copy, l'art, l'account e tutti quanti perché ovviamente a quel punto noi siamo già abituati a far parlare i nostri due cervelli. Non è stato semplice, è stato divertente, è stato bello, però a quel punto una volta che noi siamo pronti a prendere una testa in più, non c'è problema, anche Murigno che viene, come dire, in terza regia, anzi è lui il regista dello spot ovviamente, come esce sul spot della Ionic, ovviamente lì c'era una collaborazione con lui, ma come poi ha con tutti i testimonial, alla fine noi quest'anno particolarmente, l'anno che è finito insomma, ma anche adesso, abbiamo sempre un rapporto molto bello, molto di collaborazione con i testimonial perché poi sono in qualche modo un ingrediente in più, una spezia speciale che tu metti nello spot, insomma nel tuo lavoro e vengono, sono delle persone speciali, fra virgolette, se vogliamo, ma a te aggiungono tantissimo e trattandoli come noi trattiamo, io e Alessandro tratta me, eccetera e viceversa, come noi ci trattiamo fra di noi, loro riescono a dare anche quel di più, quella cosa in più che effettivamente è quello che dà il testimonial, un di più, sempre. Prima di fare insomma un bilancio, citando anche i lavori che hanno caratterizzato, se vogliamo, il 2021, ma anche questi primi mesi del 2022, in termini qualitativi, abbiamo visto questo documentario, quindi un contenuto lungo, vediamo degli spot, non c'è differenza, l'importante è avere chiaro l'obiettivo, cioè vi state specializzando o prediligendo un tipo di linguaggio? Ma non credo che ci sia un linguaggio specifico che va, che sia la ricetta che risolve tutto, io credo che la capacità anche di Amarena, ma anche di altre produzioni che sanno quello di cui sto parlando, è la capacità di adattarsi a seconda proprio del contesto in cui sei, cioè secondo me un tempo si faceva una specie di prodotto, noi facciamo questo prodotto qui, oggi invece la cosa che richiede di più sempre il mercato, a mio parere, umilissimo, è la capacità di adattarsi alle richieste del cliente, alle richieste anche ai valori di alcune situazioni, in alcuni contesti in cui entri in contatto ed è per questo che noi siamo riusciti appunto, per esempio con AIRC, a coinvolgere Pietro Sermonti, a coinvolgere Mara Maionchi, a coinvolgere anche Amazon, cioè è un... l'idea di, sì, come dicevi tu, di lavorare insieme, di trovare le persone con cui si riesce a creare una bella energia, e però contemporaneamente adattandosi a quelle che sono le richieste che ti arrivano, perché ormai il regista che fa, l'autore, si impone, è una roba che è del secolo scorso ormai, no? Però qui voi siete anche autori. Su YMI sì, perché in realtà tutto il documentario nasce da uno spettacolo che in qualche modo è stato bloccato dalla pandemia a inizio 2020, e la Fondazione AIRC ha fatto una gara chiedendo vari trattamenti, eccetera, noi abbiamo proposto una strada che in qualche modo trasformava lo spettacolo in questo documentario, poi la cosa si è evoluta, perché poi noi abbiamo scritto, se non sbaglio, il documentario fra dicembre e aprile dell'anno scorso, quindi comunque c'è stata una lunga gestazione, chiaramente poi anche con la presenza della consulenza scientifica di tutti i dipartimenti scientifici di Fondazione AIRC, e delle persone che poi ci avrebbero messo la faccia, Telmo Pievani, che è questo divulgatore scientifico e filosofo, chiaramente dovendo poi parlare per 25 minuti del documentario, voleva guardare, voleva sapere più o meno che cosa avrebbe detto. Aggiungo che poi il nostro era un canovaccio ovviamente, perché essendo un documentario poi sono le cose che ciascuno dice, sono frutto del loro pensiero ovviamente. Anche Pietro Sermonti, un pochino, con un po' di titubanza è salito a bordo se vogliamo, ma poi è rimasto coinvolto, gasatissimo, contentissimo. Mi ricordo una telefonata, eravamo su un set qui a Milano, lui doveva vedere il documentario per darci un ok, a un certo punto era luglio dell'anno scorso, ovviamente ci ha chiamato nel momento in cui stavamo girando, lo richiamo e l'avrei potuto registrare perché lui era felicissimo, no ragazzi, mi ha parlato per dieci minuti, io ho anche fretta, in realtà però non diteglielo. E lui era contentissimo, aveva detto, no ragazzi, ma una cosa comunque profonda che racconta, era molto contento. Questo per noi chiaramente è stata una grande vittoria, sono stati molto contenti di questo. Si vuole vedere il documentario, insomma, viene quasi voglia di avere un proseguo. Ci sarà, potrebbe essere, cioè potrebbe divenire una piattaforma di comunicazione per AIRC. Quello che si può fare è continuare a fare nuove domande, perché poi la bellezza di aver connesso la scienza, un premio Nobel, a personaggi come Mara e Pietro, è un modo per far avvicinare, in scienza si parla di citizen science, cioè di far fare la scienza anche ai cittadini. E quindi sarebbe bello coinvolgere, come già abbiamo fatto altre volte, anche persone che non sono neanche esperte, ma che possano investigare, divertirsi, a entrare nel mondo della scienza. Quindi la sfida potrebbe essere porre nuove domande, oltre perché io, no, arrivare a chiedere nuove domande che possano far avvicinare e rendere più popolare la scienza, in maniera tale che si tolga questa vena di austerità, che secondo me non fa bene la scienza, perché poi la scienza è tantissimo artigianato, cioè è prova, riprova, cioè noi vediamo questi film che ci raccontano di idee geniali, però tante volte la scienza è tantissime ripetizioni, è come quando vedi, che ne so, anche gli artisti botticelli che prova, riprova, o Picasso, quante tele si sa che Picasso ha buttato, e poi arrivi all'opera che invece è quella che è. E la stessa cosa così anche per la scienza, cioè non è solo genialità, è anche lavoro continuo. Esperimento, prova, riprova. Esperimento, prova e riprova, ma come anche noi in regia, si si prova, no, anche quando vediamo che la battuta, facciamo un'altra, no, il tema di R3. Se mi permetti, cioè la bellezza di questo documentario, proprio quello di averlo reso comprensibile, assolutamente alla portata di tutti, senza banalizzare, perché anche questo, insomma, è un tema, no? Ci sono stati momenti in cui sembrava che per far arrivare le cose bisognasse banalizzarle, renderle semplici, esageratamente, e non appropriatamente, invece qui, insomma, ci siete riusciti. Sì, ci sono anche dei momenti, secondo me, che sono complicati, e lo stesso Pietro Sermonti diceva, vabbè, faccio finta di aver capito, però è bello anche confrontarsi, cioè non tutti sono esperti di, anche, che ne so, quando fanno un palazzo di architettura, quando fanno, che ti posso dire, anche un grande evento, ci sono delle persone dietro dei grandi eventi, come ci sono dei grandi registi dietro delle grandi operazioni cinematografiche, e ci sono delle parti tecniche che le persone non conoscono, che non capiscono. Il non capire, secondo me, è il giusto peso del non capire in un documentario del genere, fa parte anche del fascino di quello che è il mondo scientifico. Concludiamo, tornando a voi, insomma, abbiamo parlato di un 2021 e di un inizio 2022, facciamo un bilancio? Sicuramente non ci possiamo lamentare, nel senso che, appunto, abbiamo dato tanto, e penso anche molto bene, nel senso che poi, anche la soddisfazione dei brand e dell'agenzia che abbiamo lavorato era abbastanza lampante. Poi ci siamo divertiti anche molto, devo dire, perché appunto abbiamo chiuso l'anno con un giorno a Trigoria, con i giocatori della Roma, poco prima abbiamo fatto questo trailer, abbiamo modificato il trailer di Spider-Man No Way Home, infilandoci la faccia di Lillo, che chiaramente ormai non ce la faceva più, non voleva dire solo Lillo, ma praticamente in qualche modo era così, e appunto poi, ancora prima ad aprile, il documentario di AERC, che appunto è stato chiaramente impegnativo, però una sfida anche che è un'grande soddisfazione, assolutamente. Finalmente stiamo andando verso la possibilità, tra virgolette, ovviamente, di salvare le vite umane, perché tra l'anno prima, lavorando con il Ministero della Salute durante la pandemia, e quest'anno facendo questo documentario per AERC, che comunque racconta gli sforzi della ricerca nel tentativo di trovare una cura contro i vari tipi di cancro che ci sono, ti senti che appunto lavorare nel settore pubblicitario ti apre delle strade che non sono solo vendere, ma sono anche cambiare la vita delle persone, migliorarla e a volte, appunto come in questo caso, io posso salvarla per aiutare i nose! Grazie a tutti.